Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video, noi siamo dei ProGamer e oggi stiamo facendo altri giochi di flash games divertenti Siamo tornati qua appunto, questo gioco si chiama Handless Millionaire 2 Ehm, vediamo come... come gioco Ma stampa! Mi hai copiato la parola! New Game Pandule Wow... Ehm... Dipende prima che... Cioè, devi subire il ciollo e non farti andare al posto Ehi, ui... Tocca a te Ah, ma fa impressione! Che schifo! E' bellissimo Vai, yoga Sì! No! Sì! Sì! Vai! Che c***o! E aspetto che mamma è convinto E' muore come un cane! No! E' muore come un cane! Ma non è una mia! Il terzerano mi vedevano! Ma è beccato! No, 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 no! Non è beccato! Non lo credo così! è staccato da parte addosso va bene fighissimo ma se ci dovremmo comprare qualche cosa con questi soldi non penso non penso che i soldi ne lo so oh madonna ragazzi mamma mia non ci sto vedendo più è difficile madonna ragazzi si è abbattato madonna ragazzi non già si crede uno trofeo bello un milione ma non so madonna ragazzi mamma mia mi sta facendo un giochetto ho vinto ma ragazzi è troppo difficile ma che caso è abbagato mamma mia che culo no forse continui il round speriamo no andiamo no vabbè io Gabriele vediamo vediamo dove sono vediamo vediamo dove sono i giocatori si 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 ma io vorrei sapere dove sono ecco vabbè ti vuole fare uno scherzo e quindi possiamo andare no 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 ragazzi niente purtroppo ancora non si è caricato non ho messo anche un passo ma niente è un peccato che che possiamo avere anche qui ci sono ma che cavolo fa oh vabbè si è zancato appunto mi purtroppo ragazzi si è buggato dobbiamo provo a ricaricare ma penso che non ci accerano il cavolo ehm niente vabbè ragazzi noi oggi finiamo qua no finiamo qua non sto scherzando ma ecco vabbè che abbiamo un gioco ci diamo al gioco al prossimo gioco mattina ha perso lol ok abbiamo scelto il gioco e si chiama occhio al ladro si walk the thief vediamo ma vabbè 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 comunque raga noi abbiamo abbiamo scaricato un un intro un intro così poi metteremo nel 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 video all'inizio dell'inter esempio in questo video in questo video comunque vabbè già voi l'avete vista vabbè comunque anche in questo video in questo video che caricheremo la vedrete già oggi è la prima cioè la rivolta facciamo l'intro e poi piano piano mettiamo sempre così poi sembra che qualche volta la cambieremo anche però vabbè per nessuno no 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 non è andata guarda mi inizia a mal aspetta attenzione questo gioco con te scendi diventa severa no se proprio non ti vado a vedere questo e fuori chiudi gioco ora magari ti fa impressione no no tranquillo 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 eeeh guarda che c'è volente mamma mia forse camminare no bellissima vediamo come si gioca poverino la puoi entrare in casa uccidi prende una spada di quell'empe ma è il mio figlio che l'altro è proprio così lento il gioco che non si capendo forse ne prende lui cosa c'è dentro questo sacco immagino c'è un cane che le sbrana la faccia appunto ah non è un'altra cosa lol oddio abbracci per oggi bevete perché questo gioco era uno dei migliori però vabbè già vuole andare bene comunque già siamo a 7 minuti quindi adesso finiamo qua ci diamo per se i video che faremo un saluto ciao ciao